buongiorno finalmente sono qua a riprendere a medieval che ci sia qualcuno che mi segua oppure no aspetta ok eccomi qua allora se faccio continuare a riprendere allora da un sacco di tempo che non riprendo in mano e mi dico lo avevo interrotto tempo fa non mi ricordo più niente non mi ricordo assolutamente nulla allora vediamo quasi quasi io mi tolgo dalla parte adesso rimango qui poi vedremo davvero che qui corre in automatico avere un nuovo mouse nel frattempo cambiato il mouse quindi dovrei avere un mouse un pochino più performante spada chi è chi è chi è chi è allora in realtà rispetto ai medieval perché in realtà stamattina avrei voluto fare un po di iron fury visto che è uscito da poco però mi scocciava a lasciare a metà questo e quindi l'ho ripreso allora vediamo un attimo allora vediamo un attimo ripassiamoci le armi perché no potenziarci così sto morendo perché pianeti no ho sbagliato ho sparato madonna non avevo mai sparato con questa sorta di bfg in modalità potenziata ma sono rimasto senza veramente senza munizioni no no fermo che capperi allora quante munizioni ho di sta roba scusate scusate e le non ho capito però sono così a corto di munizioni aspetta vediamo di mana vediamo se riusciamo a prendere un po di mana in più perché mi ricordo che dovevo entrare qua dentro mi sa che è chiuso qui oh yes è chiuso e dobbiamo per forte andare di qua aia e muori madonna mia chi ci vuole chi ci vuole dai muori allora prepariamoci già l'arma giusta per questa occasione se riusciamo a ammassare un po' aia 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 con questi cristalli ampliamo il tempo overkill grande stiamo uccidere sti bastardi di pesci che mi hanno ucciso prima ok ero venuto qua perché mi piaceva questo e vedi era da premere era obbligatorio era obbligatorio abirà questo o l'altro cancello di là secondo me è questo secondo me è questo non capisco perché mi lagga ogni tanto uff ok ah ecco qua sequence complete vediamo cosa abbiamo aperto secondo me abbiamo aperto questo qua no cosa abbiamo aperto mistero mistero cosa abbiamo aperto intanto facciamo una cosa facciamo un salvino ah non mi ricordo più come avevo messo sta roba ehm se intanto ormai queste se volevo preservarne uno ormai non mi ricordo più perché ok la sequenza era completa quindi la sequenza è completa quindi direi che non è questo qua no questo è interessante questa mano qui anche qui c'è qualcosa cosa infatti mi ricordo allora qua 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 era chiuso ah no è rimasto chiuso qua ci andrò sicuramente forse ho sbagliato tutto ed era una cosa subacquea lì oppure di sotto qui no non credo sia così distante dobbiamo tornare indietro fino al piano di sotto di là siamo un po' esagerato ora posso sbagliato tutto ed era qui sotto intanto ci prendiamo questa mano blu però mi sembra strano però invece si era qui era stupido era molto più vicino di quanto non credesse andiamo ah ok tiny soul tiny souls andiamo su chiave autosaved benissimo ok eravamo qua e si apri dentro aaaaa oddio tanto quello qui ci vuole per aia devo ricordare come si affrontano questi via 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 a questo punto perché se abbiamo una spara pianeti perché non usarla prendiamole con la stessa moneta si però devo anche prenderla giant soul non 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 che ho fatto poi tutto con le anime due, tre tre pianeti ci vuole ok, poi ce l'ha beccato anche un bfg in faccia ok sono già al massimo di anime quella magari me la tengo un'altra volta se voglio partire con qui mi sa che non ci si va questa è una torcia quest'acqua ci si tuffa? no sembra di no l'acqua di là ci si tuffa? no, è sempre la stessa, ok a meno che non ci sia un passaggio non mi pare ok, o si sale di là oppure si di qua, sale di qua sotto la scala qui c'è niente? non mi pare ma qui c'è qualcosa una stanza potrebbe essere gremita di questa cosa che ti distorce completamente colori ah il mascherone au non ne ho capito che c'era un un affrante qui qui c'è quello 3 secondi c'è stato lì fuori questa vasca non c'è la niente non c'è nessun segreto ah fermi lì ho visto te qualcosa ho attivato che cosa ho attivato? che cosa ho attivato? giù tutta roba utile utilissimo qua non c'è altro vero immagina ok, ottimo non è sfuggito il mio occhio l'infirruttore ok un po' buio eh non è mai abbastanza non abbiamo mai abbastanza di mana eh ok ok cosa mi dice che questa terrazza è finita qua non c'è altro non c'è altro non c'è altro la finestra aperta c'è un po' di ariette ok saliamo su di qua non voglio cioè dovrei usare la il potenziamento ma con questi non c'è bisogno oh potrei benissimo usarlo tanto comunque ho una riserva di anime abbastanza pronta all'uso aspetta non è l'arma giusta per affrontare a distanza ok affrontatevi un po' i vostri bollenti spiriti ragazzini miei mi raccogli un buio pazzesco non vedo niente eh c'è niente sembra non essere su Ti ho sentito te No, andiamo di Due poti di questi li faccio fare Molto meglio Ogni nemico ha la sua arma Che? E tu? Stavi di dietro? Dove fosse? Qui qua sotto E' un punto dove sono già state Sì, ah, qui c'era l'interruttore che ho premuto dalla vasca Sì, prima Ok Bello questo level design Mi piace molto Nuova area si salva Ma mi ha salvato prima Beam save C'è scritto Che si torna fuori Scusate Pensavo di aver sentito Un rumore Aia Non faccio mai a tempo A sconsarmi Allora, aspetta un attimo Prendi ad andare di là Proviamo a vedere qui Un po' di mana Ci serve Sicuro La blu ce l'ho al massimo Ok La vita non ce l'ho al massimo Bello Ho il salto sul mouse Ok Ok Dai, dimmi che trovo una segretaria Che mana per il bfc Un po' spappato grosso E' tappeto 1, 2 e 3 4 5 5 Non andiamo a fare colpi Non andiamo a fare colpi Non andiamo a fare colpi E' tappeto E' tappeto Non andiamo a fare colpi Oh, d'accordo Stava ad uscire Ma che c'è là, ma Non bisogna aver ucciso, ma è nato perché Pianetti Oh, questo non c'è La cacca Sono bloccato Una posizione un po' Così accovacciata Un po' Prano Allora, vediamo Io la blu l'ho usata Ok Tutti uguali ste terrazze Tutti uguali In realtà sono sta terrazza di sopra E i moti sì Oh, è veramente meglio usare Questa bacchetta qui Sono veramente più efficace Ah Più vita Di questa Wow Qua si cade Se non si sta attenti Guarda l'anima ce ne ha già E' una buona abbondanza Qui si cammina su sto gornicione Adesso No, è meglio non rischiare Però qua effettivamente Mi sembra che mi spinga A Cadere giù Ma io non mi fido A cadere giù Di qua Non mi fido proprio Una cosa Togliamo Togliamo Tanto Sto attento Eh vedi c'era un Un ascensore Tipo che flickerà Bestia Wow Dai impossibile Ho usato il pieno Fino adesso E quindi Non siamo avanti Di qua Questa era una deviazione E sono venuto Di qua Sono entrato qui Sono entrato da qui Quindi Deve essere sicuramente Un modo per progredire Ma non ve lo quale Almeno che non debba Cadere qui Li facciamo Il trucchetto Di prima Togliamo sempre qua Dai vedi Fammi No Qua sono tornato Quello sotto Non vuol dire Ok Ok Sono scuro Che devo salire Di più Qui non ho fatto Altro che salire Quindi devo Asciutare Quindi devo Ovviamente salire Ancora di più Probabilmente andare Riuscire ad arrivare Di là Probabilmente Ma come ci si arriva Di là Forse c'era un passaggio Qui non l'ho visto Che c'è questo Stato Non mi vedo Non mi sono dimenticato Non mi sono sbagliato C'è un terzo qualcosa qui Eppure non si sembra Ah ecco qua No Sono veramente Vulnerabilissimi A questa bacchetta E invece no Ah sì Direi che Direi sensibilmente Meno Vado la mazza Ai 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 C'è 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 I' no 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 i fai un po di pressione a sti cosi ti li vedi arrivare..cosi vicini pensavo ci fosse una.. qualche sorta di meccanismo c'è troppo buio qua, troppa luce qui non vedo niente risultato non vedo niente cavolo ah qui c'è una rampa che va su delle scarpe ti ha sentito? che cosa è attivato? ok una piattaforma che ci porta su qui ci sarà sicuramente da eh oh che figata non finirò ho già finito no voglio usare queste anime c'è una cosa non so che in teoria dovevo andare a cercare porca giuliva nooo porca boia capire l'autosave forse no dove è l'autosave? ecco quello più recente vabbè 928 si vediamo ecco meno male sta bene troppo safe allora andiamo a partire stessi giorni eh è homing non è necessario facciamo così guarda aspetta che finisca ecco ottimo prendo questa così mi ricarica un genio allora piano piano prima sono caduto sono ricaduto indietro ok non rifacciamo il fissore di prima ah per la fine è uscito ah ok forse devo aprire queste cose che sopra aspetta ah ok ok faccio un po' di questo ah ok ok che siete voi non ho non mi fate paura però devo anche prenderla oh muori sì c'è troppo questa mazza vediamo sicuramente voglio sicuramente aprire questa cosa qua e evitare l'altro il solito che è qui ovviamente succederà qualcosa di bruttissimo ok mettiamo un po' di distanza tra noi e loro ho fatto qualcuno no no si entra dopo aver sistemato ahia questi entro lì adesso ci vuole a te guarda 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 grazie guarda spiacciate scusate guarda 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 ciao troppo guarda posso potrebbe E' usato molto bene il BFG Due colpi ben assistati Guarda mi riconosco anche di mana Mancione Sto però usata Ah E' che non ho capito che c'erano questi Ma parca giuliva Eh ciao Sono anche caduto di sotto Parca giuliva sono Sto morendo Mi hanno Cosa aveva fatto questo Non è che si può Un'arma giusta per il cielo Non ci sono Ma che adesso Ma vabbè E' un'arma giusta per il cielo Ma vabbè E' un'arma giusta per il cielo Ma vabbè E' un'arma giusta per il cielo Nessuna word Ma Chissene In realtà non vedo l'ora di finire questo gioco Perché poi voglio passare ad Aeon Fury In realtà questo gioco è ancora lungo Comunque è bello Bellissimo A me sta facendo veramente tanto A sto gioco qui You are getting watched Ai 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 Brutta sensazione Questo è proprio il livello finale di Ai 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 Il livello di fine Il proprio fine L'occhio di gigante Che figata Bellissimo Ma dovrebbe prepararmi meglio grazie non so quale arma mi conviene usare mi conviene usare no 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 eh sono bruciato allora si si vedi vedi quale arma mi conviene usare proviamo con l'artiglieria perché no why not allora vediamo chi ama di attivare quello posso come argo? si una cosa carichiamoci di tutto quello che possiamo carichare poi vediamo di attivarlo soprattutto curarsi quindi sfere rosse ok sono a 100 bisogna anche una cosa per caricharsi l'anima penso di essere pronto facciamo un salvato salviamolo qui e andiamo e andiamo no 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 Ah, non è un personale. Non gli ho tolto quasi un cavolo questo. Non capisco qual è una tecnica giusta. Vabbè, piano. Come il gesso. Qui girate attorno, lui mi prevede dove vado. Quindi è una roba tipo di drag. Non ha senso un. Deve essere senso un. Deve essere un dictaglio. Perchè io lo prenderò più. Poi si difende. Un dictaglio. Perchè io lo prenderò più. Qua se vedo una cosa arrivarmi addosso. Non direi che ci vado addosso. Ci vado contro. No. Vabbè. Squash it. Squash it. Sui stai. Beh, bestiali. non so se c'è stata tutta gioia non è facile eh, sembra facile ma non lo ha per niente ok una seconda di un certo numero di oh ragazzi scusate devo interrompere grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.